La cena per i 40 anni del gruppo sportivo Ponte Buriano è stata anche l'occasione per presentare l'intitolazione del campo sportivo al professor Carlo Starnazzi che con i suoi studi e le sue ricerche ha avuto un ruolo fondamentale nel collegamento tra Ponte Buriano e il ponte raffigurato nella Gioconda. Abbiamo anche dato un nome agli impianti sportivi che quello di Carlo Starnazzi per i suoi studi che ha fatto legati a Leonardo da Vinci, la presidenza di Leonardo da Vinci sul posto, quindi i suoi tantissimi studi per i quali ovviamente ha avuto dei riconoscimenti internazionali. Voglio ricordare solamente che nel settembre 2003 fu nominato membro permanente della commissione vinciana degli studi vinciani che assai da Londra, ha ricevuto un medaglio d'oro dal nostro Presidente della Repubblica, è in comita la regina di Inghilterra e quindi è un caro amico e concittadino, quindi è stimato amico tra l'altro, quindi mi è sembrato opportuno dedicare questo campo ai suoi studi. Oltretutto il campo è anche di fronte al museo Leonardo e l'Aretino, proprio creato sullo studio di Carlo Stannazzi, è curato scientificamente dal Professor Carlo Pedretti che è il numero uno nel mondo e nel tempo degli studi vinciani e quindi io stasera sono parecchio contento. Poi si è fatta un'altra cosa ovviamente, si è donato un riconoscimento alla vostra emittente che da 30 anni ci segue sulle nostre problematiche e non sono state poche perché ricordo i sei anni di partaglia per cercare di eliminare dal piano di Pacino l'innalzamento di Gallapenna e dico devo ricordare che voi altri siete stati i primi.